La relazione tra la cantante ed il pilota procede al meglio, tanto che i due hanno postato la prima immagine insieme su Instagram. Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elodie ed Andrea Iannone. Dopo avvistamenti, gossip e la conferma della stessa cantante romana ormai i due non si nascondono più. La di Patrizzi ed il pilota motociclistico hanno entrambi postato un tenero scatto di coppia che arriva a suggellare la loro love story. L'artista ed il vastese in questi giorni si sono concessi una romantica fuga a Madrid. Attraverso le Instagram stories degli amici è stato possibile sapere qualcosa in più del viaggio d'amore dei due, tra buon cibo spagnolo, visite e nightlife. Tra un boccone di paella e l'altro Elodie ed Andrea hanno voluto mettere a parte i fan del loro amore, così i due innamorati della giornata di ieri hanno condiviso un'immagine di coppia, la prima sui loro canali social ufficiali. Nel selfie, che ha immediatamente fatto il giro del web, è stato possibile vedere Iannone mentre bacia teneramente la di Patrizzi tra i capelli. La cantante nello scatto appare felice e sognante. Uno sguardo e un'intesa che la dice lunga sullo stato delle cose tra i due VIP. La cantante di Proiettili, ha ritrovato la felicità con l'atleta dopo la fine della relazione con Marrakesh. Iannone è invece single dal 2019, da quando ha detto addio a Giulia Delellis, tra le sue ex celebri anche Belen Rodriguez. La frequentazione tra i due pare si è cominciata all'inizio dell'estate. La coppia era stata avvistata dapprima in Sardegna in un noto locale di Porto Cervo. Non solo in Sardegna, la cantante ed il pilota motociclistico hanno trascorso la bella stagione insieme. La coppia è stata poi beccata in Puglia con un nutrito parter di amici VIP. Ma non si è trattato meramente di un flirt estivo. Una volta rientrati dalle vacanze Elodie ed Andreanno continuano la frequentazione. I due sono stati pizzicati a Lugano a casa di lui e poi a Milano, dove risiede la cantante, dimostrando di fare sul serio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.